Domani sera l'Unitalsi ripropone questo bel momento di preghiera alla comunità spezzina. A conclusione del mese del rosario avevamo pensato di fare una processione. Quando si pensa all'Urd si pensa alla grotta e al flambeau, a quella bellissima processione con le candele e un omaggio che vogliamo fare alla Madonna. Abbiamo chiesto l'autorizzazione al Vescovo che lui si è detto disponibile e così per il quarto anno consecutivo facciamo questa processione che parte da Mazzetta alle ore 21 e arriva la cripta. Ecco un momento bello di preghiera che vedrà riunite diverse etnie, diverse lingue ma un'unica fede. Certo, oltre noi italiani anche i nostri fratelli inglesi, spagnoli, francesi e romeni. Sarà una preghiera collettiva alla nostra Mamma Celeste. Ecco quindi un momento che si concluderà appunto nella cripta della chiesa cattedrale dove il Vescovo lascerà un pensiero. Certo, e un appuntamento all'anno prossimo. Prima di tutto domani sera spero di vedere tante persone e poi un altro appuntamento per l'anno prossimo. Grazie.